Buon lavoro è nato, sto anche filmato, guarda vai su YouTube, top a Monterosso. Questa vela non gira con le orecchie, così. Eh lo so, non c'è il tuo problema. Qui io volevo fare la virata con le orecchie, ho dovuto toglierle, perché se no finiva nel bosco, è una bruttissima cosa, bisognerebbe dirglielo a Jimmy Packer, è importante che una vela sia maneggevole con le orecchie, spostando il peso.